Ciao, noi siamo un gruppo di ragazzi che stanno formando una comunità agricola nelle vicinanze di città della Pieve, no? Cioè, come alternativa all'inquinamento urbano, cioè inteso non soltanto come scoria eccetera, no? Cioè, però inteso anche come inquinamento morale, cioè capito in che senso? No, grazie. Ma guarda che non c'è niente di politica in questo, cioè nel senso che noi siamo completamente al di fuori di certi giochi di potere, capito? Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica. Ma che dovresti uscire anche senza soldi. Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri dei ritrovai giusti... Sì, sì, erano giusti, erano giusti... E qua dietro ci ha descritto il nostro indirizzo di città della Pieve, capito? Così eventualmente ci puoi scrivere d'accordo. Ciao, buona giornata.